Il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto la visita di Mary Avery, da settembre dello scorso anno console generale degli Stati Uniti a Napoli, con competenza sul sud Italia. Noi abbiamo parlato, abbiamo parlato pure dell'aspetto economico, dei rapporti fra la nostra regione con gli Stati Uniti, che sia da un punto di vista turistico, da un punto di vista poi dei collegamenti economici, soprattutto nel settore dell'agricoltura, sono continui già da tempo. L'incontro istituzionale consolida i rapporti di amicizia alla base degli scambi economici e culturali tra la Basilicata e gli Stati Uniti d'America. Sono molto lieta di essere qui per la mia prima visita in Basilicata, per sottolineare la grande amicizia che gli Stati Uniti hanno con il sud Italia, particolarmente con la Basilicata. Gli Stati Uniti danno grande importanza a questa relazione. Il console si tratterà per tre giorni in Basilicata e visiterà alcune località delle due province. Al termine dell'incontro ha firmato il libro d'onore della regione.